salve salve a tutti e volevo dirvi che anche in qui in germania siamo riusciti a fare una simpatica figura di merda noi italiani già perché la notizia della paola perego e della tv spazzatura contro le donne inaugurata da silvio berlusconi il grande è arrivata anche qui facendosi fare la figura appunto dei sessisti e anche un po delle testine di cazzo se volete sapere come la pensa la sottoscritta degli uomini dominatori l'uomo che tutto sa e tutto fa poi rischia di andare in calera come berlusconi ma abbiamo fatto una stupenda figura di merda cioè possiamo essere veramente felici di noi stessi no e del di tutto quello che è la tv spazzatura no io dico ma a questo punto se si vuole fare la tv spazzatura perché non fare tipo il jerry springer show dove ci sono le donne che addirittura si picchiano no si prendono per i capelli e poi ci sono queste ragazze afroamericane che ovviamente hanno la parrucca e quindi a un certo punto si prendono per i capelli ma non riescono più di tanto prendersi per i capelli perché da un certo punto la parrucca si stacca e quindi si tirano anche dietro le parrucche e cioè è uno spettacolo cioè dovrebbero proporlo anche in italia il massimo della tv spazzatura almeno facciamo le cose fatte bene quando si fa lo schifo non si fa bene perché io sono una pazza no avendo avuto anche periodi molto stressanti dove studiavo lavoravo quando mi dovevo rilassare cioè proprio affondavo le mani nella cacca allegramente ecco questo è uno che vuole entrare ma non lo aprirò mai no dicevo per rilassarmi facevo quello ed era molto divertente quindi perché non farlo anche noi è una proposta dai possiamo scendere ancora più in basso cioè ci sono vari gradini e perché non affrontare anche questo lato no dell'umanità già perché poi no io essendo completamente scema no guardavo queste cose qui per migliorare l'inglese però no quando dovevo guardare il cieco cosa guardavo un programma della nasa tradotto in cieco così capivo una madonna però ogni tanto capivo qualche piccola parola e me lo scrivevo sul dizionario che nel frattempo è diventato una cosa di questo tipo non sembra neanche più un dizionario perché studiare il cieco è una cosa molto dura e due volte è volato dall'altra parte della stanza perché la sottoscritta era un po incazzata quel giorno c'è un bel caratterino io è nervosetta e sì d'altra parte toro ascendente a riete tutta ad un pezzo io sono testarda in modo professionale infatti c'era scritto testardi come un mulo dal gran buon cuore infatti io ho trovato un sono stata così scema da trovare un portafoglio con più di 100 euro sono andata a restituirlo perché ho pensato se fossi stata io a perdere questo portafoglio starei in crisi di panico probabilmente piangendo con le lacrime che vengono fuori tipo cartone animato no e quindi non non ho avuto il coraggio di di fargli del male a quest'uomo sono andata a restituirglielo gli ho anche chiesto se c'erano tutti i soldi perché io so di non aver preso una lira anzi erano caduti 5 centesimi a terra questo portafoglio li ho rimessi dentro nel suo portafoglio però non so se qualcuno è passato prima e si è preso un po di soldi lui ha detto penso di sì però sono contento perché stavo per andare dalla polizia infatti in quel portafoglio c'era la patente di guida la carta di identità i soldi la carta di credito e la carta dell'assicurazione sanitaria perché qua in germania se vuoi far articolare deve avere l'assicurazione sanitaria quindi cioè ha fatto proprio mega danno quell'uomo doveva soltanto più perdere il passaporto e non lo so la carta dei diritti umani credo e aveva perso di tutto poverino però l'ale lo ha aiutato sono completamente deficiente da certi punti di vista sono di un'ingenuità incredibile mi la prendo sempre in culo la 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 vabbò e vabbè ormai è fatta e non cambierò mai la testolina di cazzo mi resta va bene questo è tutto per quanto riguarda le mie avventure spero di riuscire a caricare un video in meno di sei ore e mezza vi mando un bacio limonata accademica anche di cazzo mi resta va bene questo è tutto per quanto riguarda le mie avventure